Giudice, vicepresidente, sorpresa in aula. Ieri mattina sembrava fuori dai giochi per sua stessa volontà. In aula, con 15 voti a favore, è stata eletta vicepresidente dell'Assise Civica. Una parte della maggioranza si è schierata con Paola Giudice. Tra ricorsi e possibili scossoni, la maxi maggioranza del sindaco Lucio Greco ha retto alle prime prove. Maggioranza e ricorso. La scede ricorsi non è solo quella verda delle ghisse e dei loro alleati sconfitti alle amministrative, ma qualcosa potrebbe succedere anche tra le fila della maggioranza blindata del sindaco Lucio Greco. Pare infatti che stia per essere depositato un nuovo ricorso al Tar Palermo di un candidato di Azzurri per Gela. Migrante sventa rapina al Fortè. È un minorenne rapinatore che ieri pomeriggio ha cercato di assaltare il supermercato Fortè di Marchitello e la Cittadella. Impugnava una pistola giocattolo decisivo. È stato l'intervento di un cittadino nigeriano che racimola pochi euro dando una mano ai clienti del market. Al via gli esami di maturità. Molti gli studenti che affronteranno questa prova, determinante per il futuro degli stessi, è considerata come rito di passaggio a ciò che rappresenta il nuovo e l'inaspettato. Quest'anno sono parzialmente cambiate anche le modalità di svolgimento degli esami di Stato con l'introduzione della tipologia C, determinando una svolta rispetto agli anni scorsi. Football Club e Virtus Gela uniti per i giovani. Nasce una sinergia tra due società che puntano soprattutto sul settore giovanile. Football Club, fresca vincitrice del campionato di terza categoria e Virtus Gela Calcio hanno deciso di unirsi. La squadra di Alessio Catania spera nel ripescaggio in prima categoria. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione a cura della redazione del quotidiano di Gela. In apertura la politica Paola Giudice è stata eletta vicepresidente della Sise Civica. 15 i voti a favore dell'indipendente di Ripartiamo da Zero con una parte della maggioranza che si è schierata con Paola Giudice che non più tardi di ieri per sua stessa ammissione sembrava fuori dai giochi. Ci spiega tutto Luca Maganucco. Il vicepresidente del Consiglio Comunale è Paola Giudice. Sono stati 15 i voti che hanno permesso all'indipendente espressione della lista Ripartiamo da Zero di soddisfare la richiesta avanzata da Giuseppe Morselli, consiglieri di un'altra Gela, indicando in segno di apertura verso l'opposizione il nome di chi con un post aveva parlato di non priorità nel volere rivestire la seconda carica più importante della Sise Civica, invocando invece celerità nell'agire pur di non rimanere incagliati in logiche che poco hanno a che fare con il rilancio della città, sommersa da troppe emergenze. Lo confermo. Penso che non sia assolutamente una priorità della città quella dell'elezione del vicepresidente che è una carica importante, rispettabilissima e che mi onora ovviamente e che serve a completare, ci avviamo verso il plenum del Consiglio Comunale che ci permetterà finalmente di essere operativi ogni singolo consigliere. Ciò che intendevo dire ieri con il mio appello era quello di cercare di velocizzare tutte queste operazioni per far sì che la città possa appunto avere delle risposte che credo che siano la vera priorità. Il nuovo vicepresidente giudice aveva rinunciato anche al gettone di presenza prima di confermare il suo sostegno sia all'opposizione che alla rappresentanza in aula del genti sesso. Io penso ovviamente parlo per me personalmente che sia necessario e lo farò rinunciare al gettone di presenza quando le sedute del Consiglio Comunale vanno a vuoto e con ciò intendo dire quando non riusciamo ad espletare ciò che è indicato nell'ordine del giorno, quindi quando è una seduta come dire inutile. Non sono mai stata una di quelle donne che vede nelle quote rosa la panacea per i mali del genere femminile anzi penso che ognuno di noi debba essere valutato come essere per quello che è, come testa, per i fatti, per ciò che propone. Però certo ringrazio per aver voluto dare, come dire, votare questa carica a una minoranza all'interno della minoranza. Rimane invece a bocca asciutta Salvatore Incardona che con il suo segretario cittadino Silvio Scichilone aveva avanzato la sua candidatura a vicepresidente ritirandola solo dopo la proposta di Giuseppe Morselli. Un po' di amaro in bocca per quello che è stata la seduta consigliare laddove la maggioranza dà un'impressione di essere coesa ma ahimè invece non è così e lo dimostra anche la votazione che la giudice prende proprio 15 voti rispetto a quelli che dovevano essere il fronte comune della maggioranza e il voto della giudice stesso. Ripeto, nessuna amarezza, soltanto un po' di distacco da quelle che sono le logiche della seduta consigliare di ieri anche perché si dà spazio alla voce di un singolo e si mantiene da parte invece un partito rappresentato a livello regionale e a livello nazionale. La seduta del Consiglio Comunale non è solo servita ad eleggere la vicepresidente della Sese Civica ma anche a ribadire il consolidamento del rapporto tra Forza Italia e la maggioranza di Greco. Giudice è stata però chiara, rimango all'opposizione seppur costruttiva, ribadito un voto a testa invece è andato a Vincenzo Cascino, Virginia Farruggia, Giuseppe Guastella, Valeria Cace e Gabriele Pellegrino tre invece le schede nulle, tutte con indicazione Morselli senza però precisare se la preferenza fosse per Giuseppe Morselli o Romina Morselli. In commissione elettorale scelti Rosario Tranito di un'altra Gela e Vincenzo Casciana di Azzurri per Gela per l'opposizione eletto Salvatore Scerra di Avanti Gela supplenti la stessa Paola Giudice Davide Sincero e Alessandra Ascia. I colleghi di centrodestra hanno ritenuto di presentare un ricorso che sarà valutato nelle sedi opportune e di cui questo forse deformazione professione da avvocato dico che bisogna avere il massimo rispetto per quello che sarà il risponso. Io non entro nel merito di quello che è il diritto del candidato sindaco Spata a presentare o meno il ricorso per quello sebbene l'Udc non abbia condiviso il solo percorso politico e il dialogo politico che ha portato alla presentazione del ricorso ma ripeto ci sono le segreterie dei partiti che sicuramente stanno interloquendo in merito proprio a questa questione. Alla fine quindi tra ricorsi e possibili scossoni per ora solo ipotizzati la maxi maggioranza del sindaco Lucio Greco ha retto alle prime prove si è presa la presidenza dell'assise civica con Salvatore Sammito di un'altra Gela e alla fine la vicepresidenza l'ha assicurata all'opposizione ma non quella del ricorso il voto in prevalenza concentrato su Paola Giudice è servito a mettere ancora di più le distanze dai ricorrenti di centrodestra i numeri del resto favoriscono l'armata arcobaleno che ha avuto la meglio alle urne 16 consiglieri e non 17 almeno per il momento sembrava quasi fatta per Salvatore Incardona dell'Udc vice di Salvatore Sammito e di conseguenza per una pelina in più sullo scacchiere di Greco così non è stato Incardona ha fatto un passo indietro probabilmente perché non gli è piaciuto che il gruppo di riferimento del sindaco nonostante l'intesa di massima sul suo nome abbia chiesto la disponibilità del consigliere indipendente Paola Giudice come era prevedibile nel corso della seduta di ieri sera Giuseppe Morselli ha annunciato la costituzione del gruppo consigliare di un'altra Gela corazzata elettorale di Greco così come hanno fatto i leghisti ufficializzando la loro scelta di stare alla sise civica sotto le insegne di Matteo Salvini Valeria Caci e Giuseppe Guasselli invece faranno gruppo con impegno comune senza il richiamo al popolo della famiglia tra tutte però la vera sorpresa arriva sempre dai banchi di maggioranza davanti a due fedelissimi dell'ex deputato regionale di Forza Italia Pino Federico che oggi siedono all'opposizione ovvero Gabriele Pellegrino e Salvatore Scerra Luigi Riddio ha annunciato la costituzione del gruppo consigliare di Forza Italia l'ex consigliere comunale di Energie per l'Italia sarà in gruppo con l'ex segretario cittadino del PD Carlo Romano che ormai da tempo vicino alle posizioni forziste entrambi sono stati eletti nella lista azzurri per Gela voluta proprio da Michele Mancuso deputato regionale forzista che adesso pare aver voluto mettere le cose in chiaro con i dissidenti Forza Italia come aveva preannunciato lo stesso Mancuso e maggioranza con Greco Prima ancora dell'inizio della seduta di consiglio comunale si sono fatti sentire ma solo con i cartelli gli ex lavoratori del servizio di sosta a pagamento e sindacalisti della Filtams CGL si sono fatti trovare la una consigliare cartelli esposti e piuttosto eloquenti ci stanno rubando il lavoro svolto da 18 anni non hanno ancora ricevuto indicazioni dall'amministrazione comunale dopo che la gestione commissariale ha deciso di affidare il servizio alla GELAS per loro al momento non c'è posto e da settimane hanno ripreso con intensità la protesta il servizio è fermo da un anno e le casse del municipio non ricevono nulla la scia dei ricorsi non è solo quella dei verdi e delle ghiste e dei loro alleati ma qualcosa potrebbe anche succedere tra le fila della maggioranza blindata di Lucio Greco pare infatti che stia per essere depositato un nuovo ricorso al Tarra a Palermo da parte di un candidato di Azzurri per Gela Rosario Cauchi la scia dei ricorsi non è solo quella verde dei leghisti e dei loro alleati sconfitti alle amministrative ma qualcosa potrebbe succedere anche tra le fila della maggioranza blindata del sindaco Lucio Greco pare infatti che stia per essere depositato un nuovo ricorso al Tarra a Palermo questa volta la vicenda è tutta interna alla lista Azzurri per Gela quella costruita anche dal deputato forzista Michele Mancuso a prendere l'iniziativa sarebbe stato l'avvocato Angelo Caffà tra i più suffragati è il risultato primo dei non eletti staccato di una manciata di voti da Carlo Romano che invece è entrato a Palazzo di Città insieme a Luigi Di Dio e Vincenzo Cascino la scelta di proporre il ricorso sarebbe più che concreta non è da escludere che possa riguardare proprio i numeri finali i giudici amministrativi palermitani potrebbero essere chiamati in causa anche su questo versante che comunque non andrebbe ad incidere sugli equilibri complessivi di maggioranza a differenza dell'azione avviata dal drappello di centrodestra che punta a prendersi la poltrona di sindaco facendo il ribaltone giudiziario è una fase delicata perché i candidati rimasti fuori dal municipio solo per pochi voti vogliono verificare se i dati finali siano effettivamente corretti addirittura potrebbe partire un ricorso anche tra le fila di un'altra Gela la lista madre del sindaco Lucio Greco che ha fatto la parte del leone elettorale trascinando l'intera coalizione anche in questo caso ci sarebbe l'intenzione da parte di uno dei candidati rimasti fuori nonostante uno scarto assai ridotto è un minorenne il rapinatore che ieri pomeriggio ha cercato di assaltare il supermercato Forte di Marchitello nel quartiere residenziale Cittadella il giovane impugnava una pistola giocattolo decisivo è stato l'intervento di un cittadino nigeriano il migrante dà spesso una mano ai clienti del market sia con i carrelli che con le buste della spesa si è avventato sul giovane e l'ha bloccato la pistola è caduta a terra rilevandosi un'arma giocattolo sul posto c'era un militare della guardia di finanza libero dal servizio che ha contribuito a bloccare il rapinatore il giovane è stato fermato dagli agenti di polizia delle volanti è stato trasferito nel carcere minonire di Caltanissetta non è ancora ben chiaro se possa essere coinvolto anche nel colpo della scorsa settimana al Forte di Albani-Roccella un cittadino di origine romene dell'età apparente di 40 anni è stato trovato morto all'interno di un'abitazione di campagna incontrata a Spinasanta il corpo dell'uomo era riverso a terra all'interno del casolare non si conoscono ancora le cause della morte sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso il ministero dell'interno si è costituito parte civile nel giudizio avviato contro alcuni esponenti di Forza Nuova per una presunta violazione della legge Scelba che prevede il reato di apologia del fascismo i militanti neofascisti di tutta l'isola si dedono appuntamento a Gela per commemorare morte delle foibe sfilarono da Piazza Roma a Piazza Martiri della Libertà sono reati di pericolo concreto che mettono a rischio il divieto di costituzione del partito fascista l'avvocato Giuseppe Laspina l'ha spiegato in aula ieri davanti al giudice Silvia Passanisi illustrando le ragioni che hanno indotto il ministero dell'interno attraverso l'avvocatura dello Stato a chiedere di costituirsi parte civile nel giudizio avviato contro alcuni esponenti di Forza Nuova partito neofascista capeggiato da Roberto Fiore la richiesta è stata accolta dal giudice e si tratta quasi di una novità per il ministero che questa volta ha deciso di costituirsi in un procedimento scaturito dalla presunta violazione della legge Scelba che prevede il reato di apologia del fascismo Giuseppe Bonanno Conti, Ivan Agliotta, Salvatore Rovello Giuseppe Provenzale, Luigi Adorni e Monica Grillo sono accusati di aver fatto il saluto romano al termine del corteo che si tenne nel febbraio di tre anni fa in città i militanti neofascisti di tutta l'isola si diedero appuntamento a Gela per commemorare i morti delle foibe sfilarono da Piazza Roma a Piazza Martiri della Libertà dopo la chiamata del presente ci furono le braccia tese le difese degli imputati in aula con gli avvocati Guglielmo Piazza e Stefania Ricotta hanno però contestato la richiesta di costituzione del ministero e un processo politico ha detto Piazza per i legali infatti quel corteo non fu violento né causò danni il giudice però ha ammesso il ministero in aula è stato sentito l'ex responsabile della Digos di Caltanissetta che monitorò il raduno ha spiegato che effettivamente al termine del corteo ci furono i saluti romani e per questa ragione segnalò la vicenda processo ci sono non solo esponenti locali del gruppo neofascista ma anche rappresentanti regionali alcuni degli imputati vennero identificati dalla Digos di Catania la decisione nei loro confronti potrebbe essere pronunciata dal giudice alla prossima odienza fissata per il gennaio 2020 c'è anche un consigliere comunale di Licata tra le sette persone arrestate nella notte dai carabinieri l'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa in manette vertici dei affiliati delle famiglie mafiose di Cosa Nostra di Licata e Campobello di Licata il consigliere comunale arrestato è Giuseppe Scozzari di una lista civica l'imponente blizzo ordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo con il nome in codice assedio è stata eseguita da oltre 100 militari supportati da un elicottero e da unità cinofile l'operazione è di fatto disarticolata alle famiglie mafiose di Licata e Campobello di Licata filmati i summit di incontri segreti fra gli elementi di vertice e gli affiliati della consorteria mafiosa accertata persino un'estorsione per lavori edili realizzato in Germania documentati gli interessi del sodalizio nel settore delle slot machine attraverso un compiacente società di distribuzione di apparati elettronici da gioco al via gli esami di maturità oggi la consueta prima prova quella di italiano tantissimi gli studenti che affronteranno questa prova determinante per il futuro degli stessi quest'anno sono parzialmente cambiate anche le modalità di svolgimento dell'esame di Stato con l'introduzione della tipologia C segnando così una svolta rispetto agli anni scorsi ce ne parla Federica Milano Mezzo milione di studenti sui banchi per affrontare il primo giorno di esami di maturità che prevede in tutto sette tracce tra le quali il risvegli di Giuseppe Ungaretti e un brano tratto dal giorno della civetta dello scrittore Leonardo Sciaccia sono in tutto 520.000 in Italia i ragazzi che nei prossimi giorni saranno impegnati con gli esami di Stato la Presidente di Commissione Aliceo Eschilo oltre a fare il suo in bocca al lupo a tutti gli studenti evidenzia l'importanza della nuova impostazione per quanto attiene alla prova orale la quale rispetto agli anni precedenti aiuta i ragazzi a proiettarsi in un'ottica di studio più matura e consapevole Mi sono in Stato in questo momento stanno scoprendo in maniera molto, molto tranquilla serena i ragazzi sono messi all'oraggio e evitami un approccio che veramente, devo dire, è un progetto e un progetto semplice Un'altra novità è rappresentata dal fatto che nella giornata di oggi verrà estratta la lettera dell'alfabeto con la quale dare avvio al colloquio orale Per questi nuovi invece le risane che non ricorderanno più volte per questo è da ricordare all'interno di una nuova modalità di valutare il candidato di valutare la sua competenza e la sua interessa e quindi noi, come sempre, pronti alle innovazioni che abbiamo in maniera scoprita con loro, con l'amore di Bernardo questa modalità con la risulta dell'arco e degli apposti in effetti far ricordare che cosa loro che sono stati artifici che è una determinazione alla costanza all'impegno potranno davvero raggiungere tutto quello che desiderano e soprattutto far fronte anche alle incertezze e alle sorprese che il futuro potrà il positivo e negativo che il futuro potrà allora risaltare un violento impatto ha fatto finire il conducente di uno scooter contro il parabrezza di un'auto in transito lungo via Ambrica Marchitello ha riportato un taglio in faccia probabilmente a causa del vetro infranto dopo l'impatto il ferito è stato trasferito all'ospedale Vittorio Emanuele per gli accertamenti sul posto a valutare la dinamica dell'incidente sono arrivati i carabinieri è stato necessario il ripristino della carreggiata con gli operatori di sicurezza e ambiente dopo il fermo da parte di Siciliacque per la grossa perdita riprende la distribuzione idrica nel serbatoio di Capo Soprano si comincia con Capo Soprano Basso per poi procedere con la normale tornazione per il serbatoio di Montelungo bisognerà attendere giorno 21 giugno con la distribuzione incontrata a Marchitello il 22 giugno riprenderà a Manfre la distribuzione H24 Nasce una sinergia tra due società sportive che puntano soprattutto sul settore giovanile la Gela Football Club fresco di vittoria del campionato di terza categoria e la Virtus Gela si uniscono intanto l'allenatore del Gela Football Club Alessio Catania spera nel ripescaggio in prima categoria Nasce una sinergia tra due società che puntano sui giovani Football Club fresca vincitrice del campionato di terza categoria e Virtus Gela hanno deciso di unirsi il rapporto di collaborazione tra il club giallonero e la scuola calcio diretta da Dino Lancianese nasce con l'intento di rendere più concreto lo sviluppo di un percorso sportivo improntato sui giovani come spiega al nostro microfono il presidente del club giallonero Luigi Rivecchio i giovani sempre al centro del progetto questo è il nostro primo obiettivo societario abbiamo iniziato con la terza categoria l'anno scorso ma già l'intento era quello di crescere a livello di settore giovanile e quest'anno dopo varie trattative anche con altre società abbiamo sposato la Virtus Gela dei mister Langenese cui ringrazio lui e il suo staff perché parliamo la stessa lingua abbiamo gli stessi obiettivi la valorizzazione dei giovani e la predisposizione a lavorare in una certa maniera Nello specifico la Virtus continuerà ad occuparsi dei piccoli amici primi calci ed esordienti mentre alla Gela Football Club verranno affidati giovanissimi ed allievi oltre ovviamente alla prima squadra la Virtus Gela praticamente opera solo con i piccoli amici primi calci ed esordienti e quindi i ragazzi poi non avevano più diciamo il proseguo e gli sbocchi e quindi proprio da questa possibilità anche di poter fare iniziare a fare delle categorie giusto per iniziare gestendola direttamente noi ha reso tutto più facile anche chiudere la trattativa con il vestillo di mister Langenese Il club di Alessio Catania spera adesso nel ripescaggio in prima categoria è difficile che accettano il ripescaggio perché essendo una società nuova il doppio salto difficilmente lo accetteranno anche se noi la domanda di ripescaggio la faremo sicuramente però ciò non toglie che gli obiettivi sono sempre quelli della crescita dei ragazzi quindi non abbiamo fretta passo dopo passo cercheremo di scavalcare di superare tutte le categorie e andare avanti fin dove c'è possibile e con lo sport si chiude anche questa edizione con l'informazione per tutti gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it grazie per averci seguito grazie per averci seguito